Una cosa che voglio dire a Nando, a Sara, ma a tutti quanti gli italiani che grazie a Federico De Vincenzo che in qualche maniera ha stimolato tutti quanti noi e quindi passare dalla televisione al cinema, diciamo, foto di gruppo, chi me la scatta, una fotina Francesco, questa qui per me è una macchina che ha un valore ma no Gabriella c'è una più buona, non la usa mai io non so perché allora, tanti auguri, però tanti auguri l'abbiamo bloccato, ricominciamo? no, 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 no allora, prego, come ogni buon comandante di uomini preparo le mie truppe per invadere il fumo militare, preparo le mie truppe per invadere il mondo, siamo pronti, possiamo dire che Sara Tommasi è la più amata dagli italiani, è la parola più ricercata su Google negli ultimi 11 mesi, tutti sono usciti su solo 24 ore, fonte Google, Sara diciamolo un attimo agli amici di YouTube, sei la più amata in Italia perché sei la più cercata su Google, sono la più amata in Italia perché sono la più cercata su YouTube e in tutto il mondo su Google la più cliccata, la più voluta e la più amata perché il mio corpo è bellissimo Senti, cosa ti hanno regalato Sara per il tuo compleanno? Cosa ti hanno regalato? Il mondo! Allora, l'appuntamento adesso lo sospendiamo un attimo, ci dirigiamo al locale, full moon, sexy disco e lei era Porciano, Perugia, tu mi devi seguire con la telecamera.